L'aumento della CO2 nelle emissioni può far prevedere un'eruzione violenta di un vulcano con un anticipo sino a tre mesi e quanto emerge da una ricerca pubblicata su Science Advances. Lo studio al quale hanno partecipato le Università di Pisa, Palermo, Firenze, Torino e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha analizzato la composizione dei flussi dei gas vulcanici a Stromboli grazie ad un sistema di monitoraggio finanziato dalla Protezione Civile Nazionale. Le eruzioni vulcaniche sono improvvise e rappresentano un serio pericolo. Lo studio apre nuovi scenari per la loro previsione.